Parliamo di un progetto nato durante la pandemia, come associazione che siamo sempre stati attivi sul territorio, ad un certo punto ci siamo resi conto che quando sarebbe finita l'emergenza sarebbe stato necessario fare un intervento significativo e quindi abbiamo messo insieme una serie di interventi che sono di sostegno psicologico, di sostegno alla persona, quindi benessere psicofisico e di un ritorno alla socialità con delle attività sul territorio. È un progetto complesso perché prevede tre grandi obiettivi ed è per questo che il Circolarci San Gordiano ha chiesto a tutta una serie di partner con cui ha sempre collaborato di aiutarci, quindi c'è la lampada a bulbenessere con l'osteopata, i massaggiatori che ci aiuteranno nel recupero dei famosi sintomi che parlano di disagi psicologici e tutta una serie di associazioni come la LIPU, la Federazione Italiana Cuochi che presenteranno delle attività per i bambini per riportarli a ritrovare l'aspetto relazionale quindi con laboratori di teatro, musical, passeggiate all'esterno e la cosa interessante è che abbiamo coinvolto anche un'associazione di anziani perché ci piaceva far ritrovare queste due generazioni, quindi Nonno Pazzaci Tu è un'associazione che porterà i bambini sul territorio individuando sentiti di cività vecchia interessanti e presentandoli, quindi sarà un modo uno scampio tra generazioni differenti. Io sono Rosario Cirani, sono un osteopata specializzato in ambito pediatrico, collaboreremo con il progetto Aspettando un abbraccio del Circolo Arci Sangordiano, mediante l'associazione Lampada Blu Il Settore Benessere, la quale già precedentemente gli scorsi anni ha collaborato sempre con il Circolo Arci Sangordiano per il progetto Anziani alla Riscossa con lo scopo di promuovere la salute a 360 gradi attraverso una visione, un metodo olistico, ovvero sia una valutazione del paziente a 360 gradi e quindi attraverso una visione globale nella sua interezza e non distrettuale. Esattamente durante questo progetto collaboreremo in questa maniera, faremo degli incontri di natura conoscitiva e formativa perché riteniamo che la conoscenza di come funzioniamo sia il primo passo verso la guarigione, circa un incontro al mese più o meno. Poi faremo degli incontri di natura dinamica e pratica per poter sviscerare e mettere in pratica quelli che sono i consigli e i rimedi che diamo durante questi incontri di formazione e poi faremo dei percorsi individualizzati su prenotazione, su richiesta ovviamente mirati a scandagliare quelli che sono i motivi di consulto che il paziente ci riferisce e quindi faremo in quel caso un colloquio conoscitivo, una lettura degli esami diagnostici per vedere se poi il paziente presenta delle problematiche che sono di nostra pertinenza oppure richiede qualche altra figura medico professionale. Faremo una valutazione della postura in statica, in dinamica, dei test e poi il percorso che può prevedere il trattamento osteopatico, il massaggio con la collega Viola Tornato, la ginnastica posturale, il colloquio con la psicologa e tanto altro. Infatti noi siamo un'equip che si abbole di diversi professionisti dall'osteopatia al massaggiatore alla nutrizionista alla psicologa proprio perché riteniamo che la nostra mission nonché il nostro punto forza sia proprio la valutazione del paziente a 360 gradi.